Mi chiamo Beatrice Miserocchi e sono una restauratrice di beni culturali. Per un restauratore è sempre una grande emozione perché ti viene affidato un'opera d'arte che è unica, che rappresenta una parte della tua identità culturale e interagisci con la stessa materia che ha utilizzato l'artista per creare l'opera d'arte. C'è un'interazione di secoli di storia e questo mi affascina sempre tantissimo. Mi chiamo Federico Fischetti e sono uno dei curatori storici dell'arte delle Gallerie Estensi. Fare il curatore alle Gallerie Estensi è un grande onore e una grande responsabilità. Abbiamo un patrimonio vastissimo e il nostro compito è esserne custodi, quindi conoscerlo a fondo per trasmetterlo nelle migliori condizioni possibili a chi verrà dopo di noi. Un buon motivo per venire a visitare le Gallerie Estensi è cercare qualcosa che nel mondo esterno manca. Cercare un luogo dai ritmi lenti, di silenzio, dove le opere d'arte parlano e dove lo fanno da secoli, dove aspettano di incrociare il tuo sguardo e aspettano di accenderti qualcosa di altro. Di opere meravigliose ce ne sono tante. Un'opera simbolo delle Gallerie Estensi è il busto del Duca Francesco Primo d'Este di Bernini ed è un'opera veramente emozionante perché è uno dei più bei busti ritratto in marmo che siano stati mai scolpiti da mano umana. Grazie a tutti.